Nasce per la prima volta in Abruzzo a Cappelle sul Tavo la comunità energetica rinnovabile. Un grande risultato, ne parliamo con il sindaco Lorenzo Ferri. Oggi presentiamo la prima comunità energetica ad Abruzzo, nasce a Cappelle sul Tavo. Sia io che tutta la mia amministrazione siamo orgogliosi di questo risultato raggiunto. Abbiamo subito preso l'azienda Ceren Go che ci ha presentato questo progetto, ci ha prospettato questo progetto e noi in maniera molto veloce, infatti già in data 22 marzo, la mia giunta ha approvato ad unanimità il progetto. Oggi c'è la presentazione con la società di riferimento. La comunità energetica porterà dei benefici non solo alla comunità di Cappelle sul Tavo e a tutti i loro cittadini, ma tramite una cabina primaria anche comuni vicini, Colle Corvino, Città Sant'Angelo, Montesilvano. Oggi come avete potuto vedere ci sono anche dei rappresentanti dei comuni vicini. Quindi è un progetto che va sull'innovazione e sulle fonti rinnovabili, quindi energia pulita. L'obiettivo poi è l'autosufficienza energetica, un obiettivo davvero lungimirante. Certo, raggiungeremo l'autosufficienza. Abbiamo, con oggi apriremo uno sportello amico per tutti i cittadini per interagire, per spiegare bene cosa va a fare una comunità energetica. Sicuramente ci saranno dei vantaggi anche sul reddito dei cittadini, perché l'energia si può, tramite le fonti rinnovabili, i pannelli fotovoltaici, sarà immessa nella rete e quindi i cittadini possono rivendere poi l'energia e trarne un beneficio economico. Quindi la comunità energetica ha diversi vantaggi su tutto il territorio, su tutta la comunità, ma è collegata tra pubblico, cittadino e aziende. Certo, Sindaco Ferri, tempi di realizzazione della comunità energetica? Allora, la società Ceren Go oggi sta presentando il progetto, nelle prossime settimane farei sopralluoghi sul territorio, tramite loro personale e tecnici loro, quindi cercheranno di capire un po' come è strutturato il nostro territorio e penso nei prossimi mesi di partire, velocemente. Dobbiamo essere veloci, siamo tra le 50 comunità energetiche d'Italia, come dicevo prima, la prima in Abruzzo, quindi veramente con soddisfazione dico alla mia cittadinanza che Cappelle si proietta nel futuro.